L'amministrazione non ci pensa, ci pensa la Lega a fare queste cose, quindi da dove invernizzi non ci pensa, ci pensiamo noi e questa sera siamo qua con tutti i militanti della Lega a rendere un servizio per la nostra città. Questo parcheggio è costato tanti cittadini, anche l'anno scorso ha avuto delle gravi problematiche e noi come Lega eravamo in maggioranza e anche allora lo abbiamo detto, l'ex capogruppo Franco Bertarelli si è preso anche una querela e a maggior ragione quest'anno siamo qua a dimostrare alla città che non ci impegniamo sempre, che si sia in maggioranza, che si sia in opposizione e quindi questa sera insieme a tutti i militanti della Lega puliamo il parcheggio. Grazie Grazie Grazie